Buongiorno a tutti, sono Marco Fioranti, sono stato coordinatore di questo progetto di cui hanno beneficiato due giovani ricercatori Chiara Manfriani che è qui con me stamattina e Giovanni Gualdani. Il loro profilo era volutamente diverso, Chiara ha un profilo più tecnico scientifico, Giovanni invece viene dalla scuola di alta formazione dell'opificio delle pietre dure, quindi sostanzialmente una competenza tecnico scientifica è quella di un restauratore. Questo diciamo è il partenariato che ha operato nell'ambito del progetto, che comprendeva due dipartimenti universitari, il mio, noi siamo tecnologi del legno e il dipartimento di architettura con il collega Fabio Sciurpi per la parte diciamo di termotecnica, due operatori culturali che erano rappresentati nell'opificio delle pietre dure e il sistema museale di Ateneo e poi un partner privato, il gruppo CEAM che si occupa di tecnologie informatiche che è anche cofinanziatore, che è stato anche cofinanziatore del progetto. E allora le sfide che il progetto ha tentato di raccogliere sono quelle che conosciamo tutti, diciamo nella complessità della conservazione dei beni culturali mi sembra importante evidenziarne due, una è quella della fruibilità. Sappiamo quanto importante sono i beni culturali e quanto da tante parti si identifica l'importanza che può avere anche da un punto di vista economico la fruizione dei beni culturali, la fruizione dei beni culturali però ha come contropartita un indubbio impatto sul bene, quindi la identificazione di tutte quelle che sono anche i rischi, stamattina si parlava di rischi, dobbiamo aggiungere anche quelli sicuramente microclimatici al quale recentemente si è aggiunto un ulteriore aspetto. Quello che è il problema anche dell'effetto che questo ha sul cambiamento climatico perché ci sono diciamo degli input energetici che sono indispensabili per il controllo del clima all'interno degli ambienti espositivi e abbiamo visto anche in questi ultimi due anni come questo abbia un impatto importantissimo anche da un punto di vista economico per la gestione del museo. Allora il nostro progetto si è volutamente però indirizzato verso una particolare tipologia di museo, il nostro obiettivo non sono stati grandi musei, il nostro obiettivo era quello di tentare di portare e rendere accessibili queste tecnologie a contesti che a nostro parere sono quelli dei musei più piccoli, quindi musei che non hanno le stesse capacità finanziarie che possano avere musei molto importanti come stamattina abbiamo visto alcuni esempi interessantissimi ma che contengono tanta parte del nostro patrimonio culturale e peraltro strutture che molto spesso si trovano all'interno di edifici storici che sono essi stessi un bene culturale e sui quali c'è una capacità limitata di poter intervenire quindi non possiamo arrivare portando anche tecnologie disponibili e l'altro problema che anche noi come dire dobbiamo denunciare è quello poi della mancanza anche di conoscenze che permettono la gestione di questi dati da parte di chi ci opera. A questo abbiamo aggiunto anche un altro tema che purtroppo negli ultimi anni è diventato è diventato importante che è quello dei depositi temporanei che sono diciamo si sono resi necessari a seguito di catastrofi naturali in particolare tutti i terremoti che hanno che hanno interessato il centro Italia e che hanno prodotto diciamo una quantità di opere che in questo momento si trovano in deposito temporaneo in attesa di ricollocazione o di restauro vedremo che questo presenta una problematica specifica. Allora sostanzialmente il modello che il progetto si è avuto diciamo si è posto come obiettivo è quello di creare una piattaforma informatica che diciamo rappresenta un po' la parte intelligente del sistema la quale riceve input da un sistema di monitoraggio di monitoraggio climatico monitoraggio climatico che poi passa è passato attraverso uno sviluppo di modelli diciamo interpretativi anche del dato climatico il quale diciamo fornisce a questo sistema di controllo delle informazioni informazioni che possono essere date innanzitutto vedremo anche adesso un'applicazione pratica agli operatori che controllano che controllano il clima all'interno del museo ma soprattutto anche il sistema possa essere capace di regolare autonomamente il clima all'interno all'interno dell'ambiente museale. Questo è passato attraverso due pilastri fondamentali uno sembra banale è l'applicazione di una normativa europea che vedete è del 2010 ormai sono passati quasi 15 anni questa norma ha cambiato completamente la filosofia con cui ci si approccia all'impostazione del clima del clima museale prima di questa norma c'erano dei set specifici che valevano per certe tipologie di materiali ci siamo accorti che quell'approccio ha prodotto soltanto da anni e quindi questa norma che cosa prevede prevede sostanzialmente l'intervento di una figura professionale che è quella del restauratore del conservatore in genere che che cosa fanno sostanzialmente valutano la congruenza del clima con lo stato di conservazione dell'oggetto quindi anche se quel clima non è quello che un tempo le norme ci indicavano ma se quel clima produce degli effetti benefici non dannosi per l'oggetto perché cambiarlo e questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è quello del contributo è stato l'altro asse portante il tentativo di introdurre queste tecnologie informatiche che prendono il nome dell'Internet of Things che sono tecnologie che ormai sono disponibili in tutte le nostre case dal controllo della lavatrice fino ad altre cose ma diciamo questa applicazione ha voluto riguardare proprio la problematica degli ambienti degli ambienti museali quindi che cosa abbiamo fatto ci siamo basati su una piattaforma già esistente che è questo sistema CWS che è stato sviluppato dal partner CEAM sul quale diciamo ci siamo appoggiati per la realizzazione di monitoraggi con queste tecnologie a distanza monitoraggi che hanno interessato anche il controllo di opere d'arte un'altra parte importante è stata quella dello sviluppo di modelli interpretativi del comportamento delle opere d'arte e poi nell'ultima fase anche alcune esperienze applicative per il controllo dal remoto attraverso la piattaforma del sistema di condizionamento all'interno degli ambienti degli ambienti museali questo filone metodologico ha previsto tre fasi sostanzialmente una prima fase in cui prevalentemente i restauratori hanno esaminato le opere che sono stati oggetto di studio e hanno fatto le valutazioni che la norma ci raccomandava di fare è stato fatto un rilievo una valutazione critica del clima all'interno dei diversi ambienti museali nel quale queste tecnologie sono state applicate e poi diciamo è stata fatta proprio un'introduzione di queste tecnologie che ci ha permesso di rilevare e accedere in tempo reale ai valori di temperatura umidità relativa ovviamente la visualizzazione di questi dati, il settaggio di valori diciamo di soglia e eventualmente anche l'invio di allarmi e poi anche l'accesso a una parte delle informazioni che durante la fase di analisi vengono accumulate sotto forma di scheda descrittiva delle opere che possono essere rese disponibili attraverso queste tecnologie anche al pubblico durante la fruizione del bene Allora ci sono stati due contesti, anzi tre contesti applicativi nel quale abbiamo testato queste tecnologie uno ha riguardato il laboratorio diciamo dell'opificio delle pietre dure che si interessa della conservazione dei dipinti sul tavola, un altro ha riguardato il deposito del santo chiodo che è uno di questi depositi temporanei di cui parlavamo prima e che si trova a Spoleto, in Umbria e l'altro contesto applicativo è stato il sistema museale di Ateneo e in particolare il museo di antropologia che è stato scelto proprio per quelle caratteristiche di cui parlavamo prima il museo di antropologia come sapete si trova all'interno del palazzo non finito e che quindi è a sua volta diciamo un bene culturale ed è una struttura all'interno della quale ci sono dei problemi conservativi importanti e partiamo proprio da qui per farvi vedere alcuni aspetti applicativi abbiamo scelto all'interno del museo di antropologia due sale su cui testare queste tecnologie che sono state scelte proprio per la eterogeneità della composizione dei manufatti che questi contenevano ovviamente il legno per noi è sempre importante quindi ma non solo il legno vedete questo per esempio è un bellissimo vestito che costituisce un unicum credo ce n'abbiamo solo uno noi e uno è rimasto in Australia e questo l'ha portato proprio James Cook è stato acquistato direttamente da James Cook ed è un reperto molto particolare per la sua composizione eteromaterica diciamo quindi presenta delle sfide importanti di conservazione così come lo sono le collezioni del Sud America allora che cosa abbiamo fatto in questi ambienti? ovviamente la prima cosa è stata quella di cominciare a costruire delle curve storiche che ci permettono di analizzare nel tempo quelle che sono diciamo le fluttuazioni ambientali ora tutto questo viene fatto viene fatto dal remoto magari mentre io parlo Chiara vi può far vedere che cosa sta succedendo in questo momento al museo di antropologia noi lo stiamo visualizzando quello che vedete qui è una schermata ma quello che vi fa vedere Chiara qui adesso sul computer è quello che sta succedendo in questo momento al museo di antropologia quindi noi da qui possiamo accedere in questo momento in tempo reale a questi dati ovviamente questi dati vengono memorizzati e vengono analizzati dal sistema e ci sono, sono mai già stati fissati sulla base dell'analisi storica di questi dati dei valori di soglia per cui i conservatori ricevono sul loro, sull'app, sul cellulare delle informazioni sul fatto che qualcosa non stia andato come tutti i progetti credo che hanno interessato questo progetto siamo stati colpiti dal Covid soprattutto nella sua fase iniziale ma il Covid è stato per noi anche uno stress test interessante perché soprattutto ha consentito ai conservatori di rendersi conto di quanto fosse importante per loro non potendo essi stessi accedere fisicamente alla struttura il fatto di poter avere informazioni e in certi casi anche di poter controllare a distanza questi strumenti di condizionamento allora tutto questo è stato, i risultati di questa parte che hanno riguardato soprattutto l'applicazione della normativa sono stati oggetto di pubblicazione sulle viste indicizzate questo è un altro aspetto interessante quelle informazioni di cui parlavamo prima che sono state raccolte e che quindi hanno riguardato la costruzione di schede relative agli oggetti attraverso queste tecnologie in questo caso abbiamo utilizzato un QR code sono disponibili da parte del visitatore il visitatore semplicemente avvicinandosi alla vetrina può accedere a una parte delle informazioni che sono contenute all'interno del sistema quindi solo quelle che si ritengono essere accessibili a un pubblico alla frizione del pubblico quindi però è tutto gestito in modo integrato dal sistema e l'ultima parte, quella che a mio parere è più interessante ovviamente abbiamo rilevato delle condizioni di criticità che conoscevamo già diciamo sono state anche la ragione dell'intervento all'interno del museo il condizionamento dell'umidità attraverso, sono stati acquistati sempre nell'ambito del progetto questi semplici condizionatori che sono stati strumentati da parte del partner CEAM con queste tecnologie che consentono il controllo in remoto da parte della piattaforma del clima quindi sostanzialmente è la piattaforma che facendo un controllo in continuo su quelle che sono le condizioni che rileva in tempo reale dice allo strumento accenditi o spengiti quindi non settiamo semplicemente lo strumento su un valore target di umidità ma diciamo glielo facciamo concretizzare solo nel momento in cui serve e questo capite che anche da un punto di vista energetico è molto importante dicevamo di altri contesti operativi abbiamo replicato la stessa cosa all'interno dell'opificio ma soprattutto è stato interessante per i tecnici dell'opificio che gestiscono il deposito del Santo Chiodo la possibilità di utilizzare queste tecnologie durante il Covid ora all'interno di questo deposito si manifesta una condizione interessante perché dovete pensare che qui c'è di tutto dalla parte della facciata del Duomo piuttosto che non i candelabri della Chiesa piuttosto che non i padri quindi c'è una forte eterogeneità di materiali che richiedono di creare all'interno di questi grandi spazi delle condizioni microclimatiche localizzate che siano specifiche per le necessità delle diverse opere in questo queste tecnologie danno il meglio di sé perché ci danno la possibilità di rilevare in continuo quelle che sono le situazioni climatiche ma anche volendo creare delle condizioni localizzate mettendo anche dei semplici strumenti di condizionamento microclimatico quindi questa è stata una parte interessante come vi dicevo un aspetto per noi interessante forse anche la parte più difficile del progetto era quella di costruire, ho finito, dei modelli che fossero capaci di interpretare che cosa stava succedendo dall'opera quindi che siano dei modelli, modelli parametrici che siano in grado di informare e istruire la piattaforma nella gestione di tutto questo sistema questo l'abbiamo fatto insieme al gruppo dell'Opificio prendendo in considerazione il caso di studio dei dipinti su tavola questi modelli sono stati sviluppati e questo in termini di prospettiva futura secondo noi è molto interessante perché siamo veramente a un passo da poter introdurre un aspetto per cui possa essere direttamente l'opera che sia in grado di controllare il sistema di condizionamento quindi l'opera in base al suo stato diciamo in questo caso deformativo dica ho bisogno di umidità oppure non darmene non è necessario anche questo è stato oggetto di pubblicazioni qui ho riportato brevemente tutte quelle che sono state le pubblicazioni in diversi contesti per noi è risultato importante farlo anche non solo in pubblicazioni di carattere scientifico ma anche pubblicazioni e partecipazione a eventi di diffusione l'ultima parola lasciatemela spendere per un ringraziamento al gruppo CEAM, all'operatore che diciamo ci ha assistito in tutta questa piattaforma mettendo a disposizione la piattaforma e le tecnologie con loro la collaborazione continua Chiara ha finito il suo percorso di assegno e adesso sta facendo nella forma del dottorato industriale sta continuando a lavorare con CEAM per completare lo sviluppo di queste tecnologie e l'applicazione in questi contesti specifici e il gruppo CEAM ha sviluppato questa nuova come dire questa nuova branca che prende il nome di Evigent Team dove stanno sviluppando anche dei modelli di business per assistere adeguatamente i musei in questo percorso Grazie 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 a tutti.